Io, SunWestlight, eravamo una squadra ancora prima di Macete. Abbiamo creato un brand di qualità che non parlasse solamente attraverso il rap. Sicuramente, da quando è nata Macete Gaming, il nostro range di comunicazione si è ampliato. Abbiamo iniziato a parlare a un pubblico che non aveva solamente in comune con noi la musica, ma probabilmente aveva in comune anche qualche videogioco. La mia prima console è stata un Commodore 64, l'eredità è da mia cugina. Avevo più o meno 5 anni, non ho più smesso di giocare. Lo scouting lo facciamo giocando online con i ragazzi, perché dietro ogni business c'è prima una passione. Siamo prima dei player, poi un team, prima dei musicisti e poi una label. Il nostro è un lavoro creativo che richiede veramente tantissime energie. Avere quello stacco, quel momento di svago è indispensabile perché il risultato finale sia molto più efficace. Noi non vogliamo che il gaming rimanga solo una nostra passione o un passatempo. Ogni artista ha il suo gioco preferito. Il gaming comunica valori. È un'attitudine. Gli esports sono un vero sport.